Mi piace giocare in quel modulo e in quel ruolo in cui avevo già giocato, a parte l'anno scorso, e mi piace aiutare la squadra. Preferisco a volte salvare un gol come quello che fare il gol. Comunque, al di là di tutto, sono contento, è un primo passo, andiamo avanti, non mi devo montare la testa, non ci dobbiamo montare la testa perché non abbiamo fatto niente. Arrivano i complimenti del Presidente che ci ha detto che è rimasto impressionato dalla tua partita. Sì, la forma fisica sta arrivando. L'anno scorso non avevo fatto il ritiro, poi dopo ho avuto quel problema al ginocchio, qualche mese fuori, mi ha un po' condizionato la stagione. Adesso sto bene, sento che ho benzina nelle gambe ma devo metterne ancora. Fortunatamente non è durata cinque minuti in più perché se no ci arriva un fondo. E tu hai il primo gol ufficiale? Sì, quest'anno si parte col piede giusto. Si è visto in buona parte anche l'anno scorso, questo è il mio ruolo naturale. Io nasco da esterno, quindi sì, anche io mi aspetto grandi cose da me stesso.